il porto di ali o il porto di dio a seconda delle interpretazioni è così che è stata battezzata marsala dagli arabi che qui hanno confuso la loro cultura con quella di altri dominatori normanni sbevi angioini rendendo la sicilia un luogo di convivenza condivisione e progresso marsala è la quinta città della provincia trapanese e conta oggi circa 90.000 abitanti come sapete però amici miei il nostro non è un podcast di viaggi e di turismo demone urbani racconta delle città che diventano teatro dei più oscuri delitti della nostra storia e persino marsala che trasuda cultura arte ma anche povertà retratezza duro lavoro in mare non è stata risparmiata dalla furia omicida dall'esercizio cieco della violenza sui figli dei nostri figli sugli esseri più indifesi andiamo a marsala cari ascoltatrici e cari ascoltatori e non sarà un viaggio di piacere solo francesco migliaccio benvenuti a una nuova puntata di demoni urbani il lato oscuro della città gli ascoltabili presenta demoni urbani il lato oscuro della città passeggiare sugli antichi cardo ed ecumano di primo mattino quante bellezze a questa città c'è ancora qualche resto delle mura antiche con ben quattro porte quella di arrivo dal mare denominata porta male o porta garibaldi perché è quella da cui i mille guidati dal condottiero sbarcarono in sicilia e poi porta mazzara che oggi non esiste più se non nelle abitudini dei libetani come si chiamano gli abitanti di marsala abituati a riunirsi in questa piazza per scambiare idee chiacchiere e novità infine porta trapani e porta nuova i libetani o lavorano la terra o vanno per mare si dice oggi sono affiancati da una piccola borghesia di insegnanti impiegati comunali e le solite figure della comunità il parroco il maresciallo dei carabinieri farmacista e per finire l'onorata società di cui non si può parlare di cui non si deve parlare è un caldo pomeriggio di fine ottobre a marsala quattro bambine tre sorelline una cuginetta stanno andando a scuola il boom demografico le strutture scolastiche limitate impongono i doppi turni a scuola in tre accompagnano liliana liliana saluta le sorelline la cuginetta di fretta davanti al portone la campanella è suonata poi le sorelline di liliana virginia e ninfa 9 e 7 anni insieme ad antonella la cuginetta più grande di 11 anni devono ritornare a casa loro a scuola ci sono già andate al mattino la mamma di virginia e ninfa e i nonni di antonella le aspettano a casa le aspettano sì ma loro a casa non ci torneranno mai le tre bambine sono scomparse volatilizzate perse nei vicoli di marsala che tanta intimità ispirano i suoi abitanti elementi di una società umile abituata a rispettare l'autorità da qualsiasi parte provenga la chiesa la stazione dei carabinieri una famiglia d'onore a dove sono finite antonella virginia e ninfa 27 anni in tre tenere modeste dolci bambinette che tutti nel quartiere conoscevano nessuno parla nessun siciliano pare saperne nulla e il primo a parlare infatti non è un siciliano ma un cittadino tedesco hans hoffmann benzinaio sposato con una lili betana un europeo che non sa che è meglio farsi gli affari propri a marsala si reca la stazione dei carabinieri e da qui al nuovo procuratore della repubblica un uomo di 50 anni fresco di nomina cesare terranova sì miei affezionati è proprio quel cesare terranova che otto anni dopo cadrà sotto i colpi di mitra della mafia adesso ha tra le mani un caso di cronaca che con la mafia non ha niente a vedere o no cesare terranova è un giudice siciliano conosce il suo territorio la sua gente usa i mezzi di comunicazione che d'aiuto alla società civile ha lanciato un appello dopo il quale si presenta questo tedesco che ha visto qualcosa un'auto pare una fiat 500 blu guidata da un uomo e dietro il sedile posteriore tre bambine che si lamentavano bussavano sul vetro come per chiedere aiuto una descrizione univoca non casuale qualcuno deve aver rapito le bambine attenzione amici passa poco tempo e gli uffici della stazione dei carabinieri ricevono una seconda visita sulla scia della dichiarazione del benzinaio Hoffman si tratta di giuseppe limandri un operaio che viene a dire al magistrato che era lui sulla sua 500 insieme a sua figlia che faceva i capricci perché non voleva andare con il papà a trovare un parente in ospedale e io mi metto nei panni del giudice terranova e penso incredibile in terra siciliana dove vige l'omertà o ben due dichiarazioni spontanee che si smentiscono a vicenda il giudice allora fa chiamare ancora Hoffman perché vive ma il benzinaio non c'è più improvvisamente partito per la germania sorpreso chiama limandri anche lui non c'è più è caduto dal tetto che stava riparando morto passano i giorni si organizzano battute nelle campagne si cerca nelle cave di tuffo che costellano i paraggi di marsala dove sono antonella ninfa e virginia chi se le portate via terranova sente un po tutti anche il cognato della mamma di antonella michele vinci un trentenne un po strano con dei casi di malattia mentale in famiglia che sta dando una mano alle ricerche lui era tanto legato ad antonella così tanto si dice da avercela sempre in casa terranova scopre che michele vinci ha una 500 blu come è ovvio lo interroga immediatamente ma lo rilascia subito alla macchina sì ma anche un alibi quel giorno ha lavorato in azienda una cartotecnica nella quale svolge mansioni di fattorino il tempo passa cinque giorni un'eternità è il 26 ottobre un idraulico scende dalla sua ape per fare pipì siamo in periferia nei pressi di urudere i resti di un cantiere di una scuola iniziata e mai finita tra i muri le macerie la sporcizia avviene il macabro ritrovamento il corpo di una bimba semicarbonizzato immobilizzato da un nastro adesivo come quelli che si usano per i cartoni la bocca sigillata le carni già aggredite dagli insetti sì miei dolenti amici e antonella la più grande delle tre bambine qualcuno ha deciso di toglierle la vita con ferocia l'idraulico si mette le mani tra i capelli ecco mi sono messo nei guai ammette è il pensiero comune quando l'omertà impera non mettersi nei guai non sapere niente non vedere niente che strano il giorno prima il 25 ottobre il rudere della scuola era stato perlustrato senza successo qualcuno doveva aver portato il cadavere lì la notte stessa del ritrovamento una notte nella quale erano saltate tutte le linee elettriche dell'enel nella zona mandando al buio tutte le strade un blackout che viene giudicato doloso dai tecnici ora il posto è presidiato la polizia e sanitari al primo esame effettuato il medico legale riferisce disegni devastanti di violenza sessuale è il segnale che i medi aspettavano ora si può chiaramente parlare del mostro di marsala i giornali iniziano a battere il tantame e ottenere i loro tristi riconoscimenti le tirature aumentano a dismisura tutti vogliono sapere chi ha ucciso antonella e dove sono virginia e ninfa intanto il corpicino già in decomposizione viene analizzato in camera mortuari è il momento dell'autopsia qui l'ennesima notizia sconvolgente miei cari sì l'imene non è stato lacerato la violenza non è stata perpetrata il giallo si intriga sempre di più risentito il medico legale del primo sopralluogo ammette di essersi fatto suggestionare dal luogo desolante dalle condizioni della bambina una psicosi collettiva marsala dove il pescato sa di mare il vino è dolce e speziato dove negli anni 70 si rendeva rispetto al giudice al maresciallo e al prete e all'uomo d'onore marsala è sconvolta ora che antonella è stata ritrovata morta ma dove sono virginia e ninfa non c'è tempo da perdere ma le indagini sono lente nei giorni successivi le analisi sul nastro da pacchi che avvolgeva la bambina rivelano che è privo di impronte usato dunque da una mente lucida che sapeva perfettamente che cosa stava facendo fabbricato in lombardia viene fornito esclusivamente a una ditta di cartotecnica nel territorio di marsala eh sì è la stessa ditta dove lavora michele vinci lo zio di antonella esatto quello mezzo scemo quello che ospitava la bambina fin tanto che i genitori stavano in germania convocato nuovamente dal giudice trevanova dopo una blanda pressione vinci confessa le ha prelevate lui con la 500 spinto a suo dire da una passione che aveva sempre avuto per la nipote antonella le cungilette avevano poi insistito per venire anche loro e lui non aveva saputo impedirglielo allora ecco scatenarsi la furia omicida porta le bambine nei pressi di una cava di tufo un pozzo profondo oltre 30 metri e vi scaraventa le due sorelline e si porta antonella la sua preferita in un casolare di sua proprietà antonella vuole tornare a casa urla con tutte le sue forze ma nessuno la può sentire in quel fondo lontano dall'abitato dove michele l'ha rinchiusa al giudice vinci dice che non l'ha violentata ma solo toccata le porta da mangiare per giorni pane e salame e scatolette fino al 25 ottobre giorno in cui la viene a trovare ma non si muove l'ha trovata inanimata fredda morta e decide così di legarla col nastro e di trasportarla nella notte del 26 ottobre nel rudere di quella scuola bruciando nel corpo queste confessioni vengono rilasciate il 9 novembre sono passate due settimane dal ritrovamento di antonella terranova intima vinci di portarlo sul luogo dove ha abbandonato le altre due bambine in quel pozzo si fanno tanti tentativi senza successo e alla fine in fondo a un buco di 30 metri finalmente vengono riveduti i corpicini di ninfa e virginia sono riversi uno sull'altro in un abbraccio innaturale come se le bambine si fossero fatte coraggio a vicenda abbandonate a loro stesse sette e nove anni vite spezzate in quel luogo di morte ai primi rilievi sono presenti diversi uomini di legge e di polizia oltre a cesare terranova c'è il colonnello carlo alberto dalla chiesa e il maresciallo lenin mancuso in quello scenario di morte si erano dati convegno tre degli eroi antimafia della nostra storia recente che moriranno anni dopo sotto i colpi di cosa nostra ma torniamo al nostro caso amici di demoni urbani abbiamo o no un mostro qui a marsala a quanto pare tutti la pensano così ci sono tre piccoli cadaveri tre vite innocenti spezzate negli anni della gioia un uomo reo confesso elementi giudicati sufficienti per la risoluzione del caso il pubblico ha placato la sua bramosia di giustizia ha trovato un colpevole su cui indirizzare tutta la propria indignazione la polizia